Dal 28 giugno stop all'uso delle mascherine all'aperto in zona bianca, saranno però obbligatorie in quei contesti dove si verificano assembramenti come fiere, mercati e feste e altre condizioni che richiamano molte persone. Il Comitato Tecnico Scientifico precisa che il suo utilizzo resta obbligatorio a bordo dei mezzi pubblici. La prudenza deve essere sempre una costante e così i cittadini vengono invitati a mantenere comunque il distanziamento tra non congiunti e mantenere le regole basilari anticontagio.